E' un appuntamento qui su Crystal Radio, 96.2 FM, DAB+, ma soprattutto applicazione, sito e ovviamente anche in diretta, ci potete vedere in questo momento in diretta dal vivo proprio su Milano All News, Facebook, YouTube, Twitch, ovunque voi vogliate, ma soprattutto rivedere tutto quanto poi sul nostro sito. Buongiorno, come state? Come va? Oggi è mercoledì, giorno collinetta, su cui verso il pomeriggio incomincieremo a pensare che la settimana sta andando quasi a concludersi, poi domani è già Giove, poi c'è la discesa finale verso il venerdì. Dai, se incominciamo il mercoledì a pensare che stiamo scollinando, forse arriviamo più facilmente alla fine della settimana. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, questo è il nostro numero di WhatsApp. Sono qua ancora da solo perché il buon Masieri è ancora a casa e quindi deve riposare per rimettersi in sesto e quindi ho bisogno tantissimo del vostro aiuto. Cosa state facendo? Dove state andando? Come procede la vostra mattinata? Poi leggeremo un po' di notizie, sicuramente tanta tanta musica e comunque ve la raccontiamo un po' su quello che succede a Milano, quello che succede nella nostra città, nella nostra provincia e tutto quello che un po' fa Milano. Non lo sapete, questo è Good Morning Milano. Iniziamo con giovanotti, il boom! Muovetevi seguendo il boom boom, vi dice giovanotti qui su Cristal Radio alle 7 e 12 minuti per l'inizio di questa nuova puntata di Good Morning Milano. Ma alla 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5 ci arrivano messaggi di richieste d'aiuto in un certo senso perché il buon Alberto questa mattina non ho sentito la sveglia, ci scrive, e quindi ahimè è un problema. Ma sentite un po' cosa vi faccio sentire io, così nel caso non vi siete ancora svegliati. Ebbene sì, è la sveglia che molti abbiamo, no? Credo. Almeno alcuni ce l'hanno di sicuro. Bene, l'ho trovata su YouTube, si trova questa versione al pianoforte. Ebbene, sarebbe bello che invece di avere l'iPhone o il nostro Samsung oppure l'Oppo, non so, adesso ne ho dette un po', no? Così di fianco a noi, appoggiato lì sul comodino, così tutte le mattine entra in casa nostra un pianista e ci suona la sveglia. Senti che roba? Eh beh, eh beh, eh beh. Non sarebbe male, eh? Tutte le mattine è così, entra e vi suona una melodia. È la stessa del telefonino, eh? Però, insomma, fa un po' la differenza. Buongiorno, quindi. Così no, poi alla fine arrivo io e vi dico buongiorno. Allora, dai, come va? 3317853555. È questo il numero che dovete utilizzare per scriverci. Appunto, vi dicevo, dopo ci guardiamo anche un po' le notizie, ho qui i siti di informazione e capiamo un po' insomma tutto quello che sta succedendo a Milano. Per ora non ci sono grandi novità. C'è ancora un po' la questione della sicurezza, il video di Lenoir Casalegno, ancora. Non è Gotham City perché non abbiamo Batman, appunto, e tutte quelle robe lì. Salas è anche un po' arrabbiato, perché ha detto che, insomma, sono attacchi politici sulla questione sicurezza. Io continuo a lavorare e poi c'è sempre questa cosa che a me non piace. Ma non è che non piace di sala di tutti i politici che poi dicono ma il tema dipende solo per il 20% dal sindaco. Lo sappiamo che non è che sei tu il capo dell'esercito che puoi andare a fare... Però non dovete... Allora, cari politici, non dovete ogni volta dare questa giustificazione del fatto che non è tutto in mano vostra. Lo sappiamo, c'è una scala gerarchica lunghissima. Ma fateci vedere anche che magari siete capaci di fare quell'80% che invece non rientra nei vostri compiti. Cioè siete capaci di andare a spingere, a fare pressioni politiche. Non sto dicendo di ricattare nessuno, di picchiare nessuno. Ma le pressioni politiche, perché la politica è questa. La politica non è competenza dal 20, 30, 40%. È fare le cose per i cittadini. Poi ieri ho scoperto un po' di cose sul sistema elettorale svizzero che mi hanno abbastanza affascinato sulla costruzione dei comuni, degli assessori, che possono essere anche di colore diverso. Quindi poi andrò a indagare meglio su come funziona davvero questa cosa. Anzi, se qualcuno ci ascolta dal confine o dalla Svizzera, perché insomma il DAV Plus arriva lì, secondo me Chiasso e Giudili fino a Bellinzona, secondo me ci possono sentire. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5. Sono appena state le lezioni da voi in Svizzera, quindi dateci magari un messaggino che ci dite un po' com'è andata. Invece noi continuiamo qui a Milano, continuiamo a raccontarvi invece quello che, anzi iniziamo fra poco, a raccontarvi quello che succede in giornata e in questi giorni a Milano, ma ovviamente non si può fare tutto questo senza prima andare sulla strada, senza prima percorrere la circonvalazione, la tangenziale, andare a capire il traffico, in questo momento della nostra città. E come lo facciamo? Lo facciamo come sempre, come tutte le mattine, collegandoci con la redazione di Luce Verde che ci dà proprio la foto. Voi dovete immaginare che in questo momento c'è uno di Luce Verde che appendono un pallone, lo fanno andare sopra la città per vedere bene bene come funziona il traffico e poi ci manda il nostro collegamento. Anzi, ci colleghiamo subito appunto con Luce Verde per la situazione del traffico in diretta e in tempo reale sulla nostra città Milano e città metropolitana. A te, Luce Verde! Ed eccoci qui, 7 e 20 minuti, 7 e 19 minuti, anzi scusate, su Crystal Radio, ritornati qui dopo un po' di musica che ci fa sempre molto bene, ci sveglia, ecco, l'importante. 3317853555, ricordate potete scriverci, andiamo e cominciamo a leggere appunto un po' di notizie invece da Repubblica Milano. Topi nella scuola di Via Santo Guzzone a Milano, evacuato l'Istituto Comprensivo Statale Italo Calvino. Ecco, l'allarme stamattina, cioè, questa è una notizia, scusate, l'allarme di ieri mattina, appunto, l'allarme di ieri sera, l'allarme di ieri mattina dopo l'ingresso degli alunni della materna e della primaria, avvertiti alle 9 i genitori, adesso c'è un programma, un intervento di deratizzazione, in realtà, fino già dallo scorso marzo, erano stati visti dei topi nel cortile della scuola, appunto, erano stati cambiati e sostituiti i cestini dei rifiuti che avevano dei coperchi danneggiati, quindi sembrava che, insomma, visto che ho tolto l'esca per i topi, diciamo, i topi non andassero più a scuola, pensate, non erano asini, era così, ah sei un asino, no, se sei un topo vai anche a scuola invece adesso. E, ahimè, però, ieri, nel plesso, appunto, di Via Santo Guzzone, che è proprio al confine di Milano con Sesto San Giovanni, diciamo, è tra Villa San Giovanni e Sesto Marelli, no, proprio lì, a metà strada, beh, ecco, proprio lì si sono visti i topi anche nella scuola e così, prima in cortile e poi dentro la scuola primaria e quindi a quel punto, alle nove, avvisati i genitori, tutti a casa, perché ci sono i topi. Interessante, qui poi sarò io che sarò polemico, sarò io che ci vedo cose che non esistono magari, però è interessante vedere come questo è il Santo Guzzone, è proprio al confine, quindi la periferia, come sempre, insomma, mi viene da chiedere se sia normale che in periferia avvengano certe cose e invece dentro la cerchia della 90-91 queste cose non avvengono. Ripeto, sarò io, eh? Ah, forse sono sempre io o forse è Walter Cherubini che mi mette un po' la pulce nell'orecchio o meglio, in questo caso, il topo nella scuola. Comunque, saremo a vedere. Adesso, intanto, è stata programmata la deratizzazione, chissà quando la potranno fare, spero abbastanza in emergenza, però, insomma, è di fatto che adesso sono senza scuola questi ragazzini che verranno, appunto, smistati poi in altre scuole per il momento. La cosa che un po' così lascia, un po' sgomento, come sempre, cioè, un po' sgomento, forse ho esagerato, però, insomma, che lascia sempre l'amare in bocca è il fatto che il corpo insegnante e la dirigente scolastica avevano avvisato già nei mesi scorsi il comune evidenziando l'urgenza di una disinfestazione, cioè si era già capito che comunque questi stramaledetti topi sarebbero tornati nonostante il coperchio messi sui bidoni della spazzatura. E invece, mattina del 24 ottobre, si ritrovano i topi dentro la scuola e quindi tutti a casa. Come sempre, le segnalazioni non vanno mai a buon fine in questo caso, forse anche perché, appunto, come diciamo spesso, manca un referente territoriale che ci sarebbe, che è il Municipio 2, che ad esempio in questo caso ha ricevuto poi la comunicazione, ma che poi può in effetti fare ben poco se non passare le carte a chi sta ai piani più alti. Forse sarebbe bisogno, ci sarebbe bisogno di dare maggiori poteri o comunque anche maggiori responsabilità, ci mancherebbe ai vari municipi, municipi che appunto seguiamo sempre e che potete anche seguire un po' qui su Milano All News, sul nostro sito, con il Focus Periferia. The Color Sittalo Disco alle 7.37 minuti, qui su Crystal Radio, 96.2 FM, Dub Plus e anche su il sito, l'applicazione appunto ve lo dicevo poco fa, ma anche su Milano All News, dove potete vederci in diretta in questo momento su Facebook e su Twitch e su YouTube, ma soprattutto rivederci più tardi con tutti i pezzetti, tutti i spezzoni ritagliati dal nostro programma. È stata presentata Book City ieri e a Book City è tempo del sogno, così titola Repubblica. Nasce la settimana del libro e sconfina fuori Milano anche con oltre 1.500 eventi gratuiti. La Festa dei Libri dei Lettori si terrà dal 13 al 19 novembre e sconfina verso Cremona e Lodi. Io da buon milanese dico ce n'era bisogno, nel senso Lodi c'ha già le sue feste, va a Cremona pure, perché dobbiamo andare a sconfinare? Soprattutto perché perdiamo sempre l'identità della città, vabbè comunque questa è polemica mia. E quindi così stanno dicendo che nasce di fatto la prima week dei libri a Milano, appunto. dobbiamo per forza chiamarla week, anche qui c'è sempre queste week, sempre tutte queste week, sempre davvero week. Pensate che è la dodicesima edizione della manifestazione di Book City, che era bellissima così com'era, quindi non capisco perché bisogna per forza andare a sconfinare verso Cremona e collaborare con il Festival Porta Aperte di Lodi, che farà preciere a quei Lodi. Io questa cosa di dover sempre andare fuori, dover andare ad allargarci, quando non serve. Fai il Festival Internazionale, va bene, fai il Festival Europeo del Libro, va bene. Ma perché una cosa che era qua, anzi, invece di andare a Lodi, andiamo a Quartogiaro, andiamo e ce l'ho su con questa cosa, ce l'ho su col fatto che dobbiamo popolare le periferie di iniziative che nascano magari in periferia, no? Sarebbe bello se Book City dicesse, sapete che c'è? Cioè, nasciamo in quel del Grattosoglio, nasciamo a Ponte Lambro e ci spostiamo poi a conquistare, come fosse un risico, tutta la città. E invece no, sempre dal Palazzo Marino, sempre dal Duomo, sempre dal Castello. Io non ne posso più, non te reghe più, diciamo, no? Ok. E poi soprattutto, una cosa che non reggo più, ve lo dico, sono queste week. Io le week non le reggo più, non ce la faccio più. Anche perché, beh, in questo caso è una settimana, forse, vediamo. Vi hanno detto dal 13 al 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sono sette giorni, sì. Altre week sono due giorni, tre giorni, quattro giorni e mezzo, tre giorni più due, cioè, quindi, ecco, cerchiamo di capire. Le week ci sono tante, c'è stata anche la Wine Week poco fa, anzi, più una passata, e, proprio nei giorni della Wine Week, il nostro masiere, adesso diventiamo invece, lasciamo il serio per il faceto, come si dice in questi casi, perché abbiamo un collegamento un po' particolare. Abbiamo un collegamento un po' particolare, fatto appunto da Lorenzo poco prima che andasse via per la sua malattia che lo sta tenendo a letto in questi giorni, ma che appunto tornerà, è sano e salvo, nel senso è vivo, è vegeto, è lotta insieme a noi, come si dice in questi casi, ma appunto prima di uscire da questo studio l'ultimo giorno, prima di sentirsi un po' così malato, è riuscire a fare un collegamento. Con chi? Con Paul Paul, lo sapete, no? Paul Paul, il nostro influencer di Nati per nascere a Milano, non confondateli con Nati per vivere a Milano, nel senso quello è Paul Pablo, o forse va confuso, non lo so, forse, 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 forse lo chiederei a lui. Chiudiamo a Paul Paul, sentiamo Lorenzo Masieri con Paul Paul. Blash, pigmenti tattici nucleari, Nightmares, alle 7.47 minuti, grazie ai Whatsapp che stanno arrivando al 3317853555, bentornato a Lorenzo, sì, no, era registrata, lo dico, perché è ancora poveretto, a casa con il raffreddore tutto l'annesso e connesso, ma appunto prima di partire per questo lungo viaggio, come diceva qualcuno, lui è riuscito a registrare appunto con Paul Paul, che vi invito comunque ad andare a seguire sui social, se lo trovate, perché insomma non ho detto che si riesca a trovare questo famigerato Paul, Paul, vedremo appunto. la provincia, ah no, la M4, c'è una notizia sul Corriere di Milano sulla M4, che volevo leggervi, perché ci sono un po' di aggiornamenti e un po' di date che forse ci faranno capire meglio cosa potrà succedere. la M4 sarà completa entro il dicembre del 2024, 21 fermate e 47 treni, ma i costi sono aumentati di 140 milioni, pensate, 140 milioni, e non, sai, ah guarda, costava 10,99, adesso costa 12,99, cioè su Amazon intanto, no no, 140 milioni, costi extra per 140 milioni, vai. Gli aumenti, ve lo leggo, potremmo fare anche qui copia in colla da tutti gli articoli che ti dicono perché ti aumentano le cose, gli aumenti dovuti a materiali come acciaio e calcestruzzo e alle norme anti-covid, perché le norme anti-covid hanno aumentato così tanto i prezzi, dal governo finanziamenti per 75 milioni, questo quindi è lo stato dei lavori sulla linea blu dopo l'apertura appunto del tratto San Babila e Linate, il costo globale di tutto quanto la melonera, diciamo, sarà di 2,2 miliardi di euro, ecco perché dicono che aumenta così tanto, perché il preventivo, diciamo, era stato fatto a 1,68 miliardi scusate, nel 2014 però, abbiamo qualsiasi cosa aumentata dal 2014 a oggi, cioè ci sta quindi che aumenti così tanto, c'è da dire che però appunto saranno ufficializzati questi 140 milioni di extra costi che dovrebbe appunto iniziare entro la fine del 2024 l'esercizio su tutta quanta la linea con i 47 convogli che copriranno le 21 fermate che vanno da, lo sappiamo, Linate, no? Della zona est della città fino a San Cristoforo, diciamo zona sud, sì, zona sud, lungo il naviglio, al confine proprio tra l'est e l'ovest, diciamo quel naviglio che taglia giù dritto così, no? E quindi siamo lì con, ovviamente sappiamo anche le polemiche e la richiesta, sacro santissima, da parte di Bucinasco di dire scusate ma la fermata qua no, visto che ci fate proprio il deposito finale, è attaccato al cartello fine Milano inizio Bucinasco, quindi cioè giustamente la giunta comunale di Bucinasco ha un po' rotto le scatole per avere la sacro santa, ripeto, fermata di capolinia o magari chissà anche di allungamento su Bucinasco. Quello che lì sera ragionavamo qui in redazione è perché quando si finisce una metropolitana non si inizia subito a lavorarne al prolungamento, cioè non sarebbe da fare proprio ovvio, cioè arrivi a San Signore con la M5 ma quando ho finito incomincio a portarla verso l'esterno, ma perché no, perché no? Fedez, con te lo ha sapore, 7 e 53 minuti, ci avviciniamo alla fine della prima ora in vostra compagnia e ovviamente continuiamo con le notizie e arrivano anche le brutte notizie come sempre dalle strade della città. Vi ho dato notizia ieri di un incidente che aveva coinvolto una donna di 84 anni in via Fratelli Bronzetti, ecco la notizia è peggiorata ancora perché è morta la donna di 84 anni, appunto investita da uno scooter, pensate uno scooter ha investito questa donna. La donna era stata portata in codice rosso al Niguard dove poi appunto è stato dichiarato il decesso e quindi morta questa donna, innesima vittima della strada pedoni, ciclisti che continuano a chiedere soluzioni strutturali e interventi da parte di tutti, anche qui da parte dell'amministrazione, ovvio sappiamo che non è il problema l'amministrazione comunale perché non fa le strade, non decide i limiti di velocità, non decide tutte le cose ma ne decide altre, può decidere dove mettere ad esempio alcuni limiti di velocità, può decidere come aprire certe strade, poi le autostrade, le tangenziali, i ponti e quant'altro ovviamente non li costruisce solo il comune, se certe macchine possono circolare nella nostra città non lo può decidere solo il comune ma altre cose lo può decidere, quindi area B l'ha fatta, area C l'ha fatta, quindi insomma si può fare tanto se si vuole. Tanto è che domani il 26 di ottobre, domani giovedì 26, ricordiamo intorno alle 19 a Porta Romana il grande happening, il grande incontro, la grande manifestazione appunto con tutti le sigle dei ciclisti e anche non solo, chi vuole vivere la città in maniera diversa che si troveranno, bloccheranno il traffico che chiederanno maggiore sicurezza al grido di basta, morti sulle strade. Bee Gees Night Fever 8.06 in questo istante, benvenuti nella seconda ora di Good Morning Milano, allora buon giorno a chi si è appena collegato, buon lavoro a chi magari ci sta lasciando, so che questo è il momento in cui alcuni ci lasciano per entrare al lavoro, altri invece aprono gli occhi, si svegliano e tirano un paio di imprecazioni perché ormai è iniziato ma ragazzi, guardate che svegliarsi è bello, so che c'è una grande parte di voi che è del team non parlatemi la mattina, ma in realtà molti altri sono invece gente che si sveglia con l'energia, con la felicità dell'essersi svegliati. Il problema nasce quando questi due componenti, un team, non parlarmi la mattina, è il team ciao, benvenuto mondo, vivono insieme e questo so che ci sono delle coppie che ci ascoltano, che hanno questa dicotomia al loro interno, non deve essere semplice, fate una mattina per uno, cioè un giorno vi svegliate tutti e due in silenzio, non vi parlate fino a mezzogiorno, l'altra mattina invece a pallettoni dalle sette del mattino così svegli a darsi manforte, e là perché è bello, siamo svegli anche oggi, e vai! C'è chi dice che insomma dovremmo essere grati per ogni giorno, quindi essere contenti la mattina di esserci svegliati e essere appunto grati dell'essere ancora, ma chi? Come si dice a Milano, però capisco un po' anche quelli che sono del team non parlarmi la mattina. Io ovviamente faccio parte del team svegli a pallettoni, perché se no come farei alle sette del mattino ad essere qui a raccontarvi tutte le nostre cose sarebbe veramente complicato. Voi di che team fate parte? Del team non parlarmi la mattina o del team e là! Belvenuto! Nuovo giorno davanti a noi! 33178535555 qui che potete dirci da che parte state, so già che appunto alcuni dei nostri ascoltatori stanno da una parte, altri stanno dall'altra, ma ho in questo momento in mente una coppia che è proprio divisa a metà equamente e che anzi bisognerebbe trovare appunto il metodo migliore io vi propongo appunto questo, un giorno uno e un giorno l'altro, ditemi voi come fate so anche ad esempio e grazie subito al 3317853555 arrivano già i primi messaggi, Rosalba che fa parte del team non parlarmi di mattina. Ve lo ricordate qualche settimana fa anche ci aveva già scritto, Rosalba se non ricordo male, ci aveva scritto appunto che la mattina quando arrivi al lavoro e tu vai al lavoro molto molto presto, intimi alle tue colleghe di non parlarti e anzi ti metti le cuffie nelle orecchie ad ascolti Crystal Radio appunto per non ascoltare nessun altro e grazie anzi invece per darci questo privilegio di poterti parlare la mattina e quindi grazie mille 3317853555 diteci voi a che parrocchia, di che parrocchia siete ok? Potete dirci se siete di quelli appunto che la mattina sembrano a pallettoni o di quelli che non vogliono sentire volare una mosca e non dovete rivolgergli la parola fino a mezzogiorno continuiamo con la musica, adesso è Selena Gomez, My Mind and Me anche lei vedi la mia sua mente e lei, sono in due sono eh ritrovati, ben ritornati su Crystal Radio e su Milano News e soprattutto qui all'interno di Good Morning Milano allora devo leggervi una notizia che arriva da Repubblica, ne la voglio leggere perché è interessante perché parla un po' di quella diatriba, secondo me anche un po' assurda che avviene intorno al, che in termini utilizzare quando un sindaco è donna si dice sindaca, cioè non è che bisogna stare lì tanto se l'ingegnere è ingegniera, se l'architetto è architetta allora sono parole che, sì, allora è che magari possono risultare sgradevoli a volte ma è l'italiano signori, quindi non c'è poco da fare tanto che l'ex provincia di Milano, cioè la città metropolitana di Milano ha dovuto fare un vademecum, sindaca, ingegniera e articoli femminili il vademecum di città metropolitana di Milano per rispettare la parità di genere e questo avviene non tanto perché, oddio le minoranze, oddio diamo una porta, le quote rosa così no, perché pensate che nell'ente il 40% dei dirigenti sono donne quindi comunque c'è una buona bella parte dei dirigenti sono donne ma soprattutto il 57% del personale totale della città metropolitana di Milano sono donne quindi ci sta che si mettano i puntini su lei a un certo punto perché dice indispensabile intervenire sul linguaggio nella comunicazione interna e anche verso il pubblico ovvio che finché non useremo queste parole ci sembreranno parole brutte parole che non ci piacciono, parole che ci danno fastidio però perché? Perché non siamo abituati a ascoltarle semplicemente non è che c'è tanto altro, è questo il tema, è questo il problema di base se noi fossimo più abituati ad usarla non ci sarebbero problemi poi non sono neanche usita le mani a dire che bisogna usare solo quello o quell'altra usiamo un po' quella che vogliamo effettivamente se un sindaco è una donna perché usare il sindaco quando esiste sindaca non è mai stato usato? è vero, non è mai stato usato perché c'erano poche sindache c'erano pochi sindaci donne fino a qualche tempo fa ma adesso che sono tante le sindache perché non usare sindaca e così anche con architetta, avvocata, ingegnere insomma tutte quelle parole che l'italiano crea al maschile e al femminile poi ci sarebbe da discutere sul neutro e compagnia cantante sicuramente ma se l'italiano non ce l'ha non è che possiamo inventarcelo ok? il neutro, usiamo quello maschile per il neutro e sì però forse era meglio dire che usavamo quello neutro per il maschile così magari passava un po' meglio il messaggio insomma tali fatto che è un tema importante e sono contento che la città metropolitana di Milano abbia fatto uscire questo vademecum appunto per sia ad uso interno che esterno quindi sia per parlare all'interno dell'azienda città metropolitana sia all'esterno quindi l'ex provincia di Milano fa un passo avanti verso la parità di genere ma soprattutto appunto verso anche una modernità di linguaggio che deve intervenire deve inserirsi nel nostro linguaggio quotidiano così da non sembrare strano da non sembrare cacofonico da non sembrare strambo ma invece semplicemente normale le nuove linee guida appunto sollecitate dalla consigliera con la delega alla pari opportunità Diana De Marchi discipleranno quindi il linguaggio usato internamente ma anche tutta la comunicazione rivolta verso l'esterno e quindi verso il pubblico che potrà quindi iniziare a comprendere queste parole meglio a iniziare a mettersele diciamo nelle orecchie quindi farle diventare un po' meno strane perché poi appunto il tema è sempre questo se noi ci abituiamo a certi termini questi termini incomincieremo ad usarli Agosto Morsica Comacose Agosto ormai lontano ce lo siamo un po' dimenticati ormai già ma è quello Agosto Morsica Comacose che sono in tour in questo momento negli Stati Uniti ieri sera ho visto un post bellissimo del loro concerto a Los Angeles club pieno una situazione veramente veramente bellissima e meritatissima dal duo che ricordo sempre non milanese ma milanese adozione milanesissimo nella loro espressione e quindi complimenti Comacose complimenti al loro tour statunitense appunto ieri sera in quel di Los Angeles 3317853555 arrivano gli auguri per il buon Lorenzo Carlo ci scrive auguri a Lorenzo di pronta guarigione ci manchi e ci mancavano le tue interviste quando faceva riferimento alla presunta intervista noi siamo sempre questo presunta presunta intervista a Paul Paul vi invito ad andare sui nostri social e soprattutto Milano News anche il sito e YouTube perché potete riascoltare tutte le varie dinamiche nate all'interno di questi collegamenti Paul Paul il Roberto anche che si collega che sbaglia sempre a telefonare pensa che questa sia radio popolare invece è Crystal Radio però lui stoico continua nelle sue chiamate magari lo sentiremo anche nei prossimi giorni a proposito dei prossimi giorni domani è giovedì e domani avremo qui con noi Tamara Malleo per parlare di teatro e di tutto quello che ruota intorno al teatro milanese che sappiamo essere lo dico da sempre la capitale del teatro domani mattina appunto con noi Tamara Malleo per parlare di teatro The Rolling Stone Living in a Ghost Town Rolling Stone dal 1962 che ci fanno compagnia ci allietano con la loro musica questo era del 2022 se non l'ho visto male 2020, 2022 2020, il 2020 tre anni fa più o meno quando Mick Jagger aveva 77 anni perché al momento Mick Jagger il 26 luglio di quest'anno compirà 80 anni ebbene sì Mick Jagger è nato il 26 luglio del 1943 e si accompagna con un altrettanto giovane ottantenne che è Kate Richards che nasce invece il 18 dicembre del 43 quindi insomma entrambi classi 1943 quest'anno per entrambi saranno gli 80 anni il terzo della band attualmente sono solo in tre cioè sono in tre i Rolling Stone in questo momento è il giovanissimo Ronnie Wood che ha solo 76 anni oggi quindi pensate un po' questi tre baldi giovinetti potrebbero fare gli umarell tranquillamente nella nostra città a guardare i lavori in corso e io mi metterei lì con loro a guardarli soprattutto se ci passa un treno perché sapete la mia grande passione per i treni perché come dice il sommo Renato non zero pozzetto il treno è sempre il treno e invece appunto i tre i tre arzilli nonni potremmo chiamarli così i Rolling Stone sono lì ancora a produrre musica sappiamo appena uscita una nuova canzone appunto di Rolling Stones e continuano continuano a produrre grande e bella musica alla faccia del rock e di tutte quelle cose che si pensano sulle rock star o meglio forse il rock allunga la vita non lo so chiediamolo anche ai Blink 182 che hanno fatto una canzone quest'anno nuovissima si chiama One More Time e ora andiamo ad ascoltarla One More Time Blink 182 su Crystal Radio Dab Plus FM sito e app Blink 182 One More Time Blink 182 che invece loro sono dagli anni 90 che coprono e battono la scena musicale dal 92 in realtà con una piccola pausa tra il 2005 e il 2009 e pensate i 51 anni del cantante dei Blink 182 Mark Oppus non sono niente in confronto appunto agli 80 di cui parlavamo prima di Mick Jagger e Kate Richards 51 anni però a portarli benissimo perché ho visto ultimamente delle sue esibizioni e anche i Blink che invecchiano molto molto bene questo è il rock forse il rock aiuta a stare più giovani non lo so questa mattina mettiamo un po' di rock così per cercare di darvi una sveglia e soprattutto cercare di darvi un aiuto se siete nel traffico perché al 331 7853555 c'è appena arrivata una foto di Adriana che è bloccata lungo il naviglio in coda verso fuori Milano quindi ormai sia che vai dentro che vai fuori trovi sempre comunque coda anche se vai fuori dalla città lì c'è quel maledetto pezzo dopo Corsico prima di Trezzano quella zona lì che è un po' trafficata complicata c'è anche la tangenziale con l'uscita lì quindi ci sta e appunto in questo momento è bloccata nel traffico veloce che bisogna andare a lavorare però bisogna andare a lavorare veloci continuiamo con il rock o comunque con quello che è il rock di oggi perché si può andare sul naviglio si può andare al lavoro si può andare dall'altra parte di Milano oppure si può andare anche su Marte o almeno quello che ci dicono già Red Leto e compagnia che dicono di essere a 30 secondi da Marte 30 second to Mars Stack 30 second to Mars che abbiamo detto le avevo introdotti come un gruppo rock ma vedete come anche le sonorità delle rock sono sicuramente cambiate negli ultimi anni questa è una canzone del 2023 insomma è un po' cambiato 30 second to Mars che sono appunto il gruppo di Jared Leto fondato insieme al fratello Shannon Leto un Jared Leto che anche lui comunque 52 anni tutti i ragazzini questi rocker diciamo cioè dalla parte sono i Maleskin che hanno 18 anni appena compiuti quasi sono giovanissimi hanno poco più di 20 anni e dall'altra parte ormai dei signori adulti che fanno una musica rock che però insomma fa ancora sentire la sua sicuramente tra questi c'è Dave Grohl lo sapete Dave Grohl batterista dei Nirvana e poi diventato frontman dei fondatore anzi dei Foo Fighters beh i Foo Fighters hanno fatto anche loro uscire una canzone in questo 2023 ed è Under You il rock è quello che ha fatto questa mattinata da padrona qui su Crystal Radio e qui all'interno di Good Morning Milano e cerchiamo tutti i giorni di darvi la sveglia nel migliore delle maniere quest'oggi ancora per una giornata è da solo forse domani ritornerà il mio compagno di avventura Lorenzo Masieri e speriamo di potervi raccontare sempre meglio la città domani abbiamo anche un ospite perché domani avremo Tamara Malleo parleremo di teatro parleremo con lei di tutto quello che ruota intorno al mondo del teatro nella città diciamo un po' che fa da capitale del teatro d'Italia so che in questo momento so che tante altre città ah ma noi abbiamo i Moldonizzetti ah ma noi abbiamo la Fenicia ma non sto parlando di teatri strutturati non sto parlando di building ok parlo della prosa della poesia della messa in scena delle compagnie teatrali che in realtà sono tantissime in tutto lo stivale devo dire la verità ma che a Milano hanno trovato diciamo terreno fertile nonostante tutto perché insomma non è che Milano la sua città e diciamo la politica locale ma anche noi milanesi non è che rendiamo molto facile la vita ai teatranti insomma sarebbe da fare come dice Tamara far diventare il teatro un'abitudine così dice sempre ma non finisce il rock qua e no no perché continuiamo con il rock continuiamo con il rock però di oggi diciamo un gruppo un po' più giovane sono un gruppo di trentenni sono i Nothing But Thieves con Welcome to the DCC e questa è Crystal Radio sempre alle 8 e 50 minuti e poi la sua città è un po' più è un po' più Grazie a tutti.